Benvenuti, siamo con il professor Gianmarco Marzocchi, docente di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione, presso l'Università Milano Bicocca. Benvenuto professore. Buongiorno e grazie. Professor Marzocchi, per iniziare ci dice quali sono i principali disturbi del comportamento che possiamo riscontrare a scuola? Secondo i manuali diagnostici esistono diversi disturbi del comportamento che possono essere classificati e diagnosticati, tra cui quelli probabilmente che tutti noi conosciamo al disturbo dell'attenzione e iperattività, la DHD, però esistono anche disturbi del comportamento più di tipo esternalizzato, come il disturbo positivo provocatorio, in cui il bambino ha un atteggiamento molto, diciamo, duro o positivo, cioè che si oppone alle richieste, piuttosto che volontariamente va a attaccare e provocare agli altri per riuscire ad ottenere magari una sorta di vantaggio relazionale, oppure per avere anche una sorta di riscatto o magari di rivincita agli occhi degli altri dal punto di vista relazionale. Poi ci sono delle forme ancora più gravi, che sono quelli dei disturbi della condotta, in cui il ragazzino non si ferma solo ad un atteggiamento un po' rigido, positivo e anche provocatorio, ma diventa un vero e proprio comportamento di sfida, di violazione delle regole, di anche distruzione della proprietà o di ferimento dell'altra persona, per cui tutte le problematiche magari legate al bullismo a volte sono proprio ascrivibili a ragazzini che hanno proprio veri disturbi della condotta, perché bullismo non è solo chi prende in giro, chi proprio danneggia, ferisce le altre persone in modo volontario, sistematico e reiterato. Un'altra, l'ultima, secondo l'ICD10, disturbo comportamentale, è il disturbo, diciamo, della condotta e dell'emotività, ovvero sono ragazzini che hanno un problema, prima di tutto, di tipo emotivo, ovvero si sentono non valorizzati, non riconosciuti, hanno un basso tono dell'umore, per cui dentro di sé in realtà sono tristi, sono depressi, ma esternamente invece mettono in atto dei comportamenti aggressivi, in cui loro cercano un po' di compensare questo basso tono dell'umore attaccando gli altri, per cui è un disturbo del comportamento con una forte base emotiva. Ecco, lei adesso ci ha fatto un attimo un quadro, però ci dice quali sono gli elementi che accentuano comportamenti negativi e quali invece riescono a chiararne un attenuamento? Allora, diciamo che la DHD si differenzia un po' dagli altri disturbi perché è proprio un disturbo del comportamento, ma non finalizzato a ferire gli altri. È un disturbo del comportamento in cui il bambino ha bisogno di ricevere delle stimolazioni, soprattutto dal punto di vista attentivo, motivazionale, e quindi è iperattivo, non sta fermo perché in quel momento si sta annoiando, ma non ha un'intenzione, diciamo, distruttiva nei confronti degli altri, del gruppo, delle persone, degli oggetti. Gli altri invece hanno maggiore intenzionalità perché hanno un problema di base emotivo-relazionale. Quali sono gli elementi che li incentivano di più? Allora, per quanto riguarda la DHD, il problema può essere una scarsa organizzazione dell'attività a livello spazio-temporale, cioè una lezione non ben strutturata, tempi morti, tempi persi, demotivazione, disorganizzazione, il fatto che il bambino non sa quello che deve fare. Questo aumenta il livello di problematiche e di iperattività. Mentre gli altri problemi che hanno una base emotiva-relazionale molto spesso si accentuano se il ragazzino si sente non accettato, non capito, non riconosciuto, per cui parte da un senso di frustrazione sostanzialmente. Noi sappiamo benissimo l'associazione che c'è tra frustrazione e aggressività. Tanto più io mi sento frustrato, io mi posso sentire giù di tono dell'umore, mi posso sentire sul versante depresso e questo soprattutto nei maschietti che tendono ad esternalizzare diventa una reazione aggressiva. Quindi cosa, per rispondere alla sua domanda, cosa lo fa aumentare? Il senso di non comprensione, il senso di non inclusione, il senso di quindi emarginazione, tu non vai bene, tu non sei adeguato, tu non sei all'altezza, tu non funzioni, tu non devi stare con noi. Questa percezione fa aumentare i livelli di aggressività. Ecco, a questo punto come dovrebbe comportarsi un insegnante di fronte alle varie casistiche che ci ha appena raccontato, che si possa presentare e di cui lei appunto ci ha accennato in questo momento? Allora, prima di tutto direi esattamente tener conto dell'opposto di quello che ho appena detto, ovvero tener conto che a parte i bambini con ADHD che possono essere aiutati con un lavoro diciamo sul coinvolgimento attivo, sulla motivazione, la strutturazione, l'alternanza, attività più ferme, attività più di movimento. Invece l'aspetto che invece è utile per i ragazzini con disturbi del comportamento su base emotiva e relazionale è soprattutto il pensare che io devo lavorare con questi ragazzini per farli sentire più efficaci. Il loro problema è il senso di frustrazione. Quindi, prima di tutto, secondo me la cosa importante è la chiave di lettura degli insegnanti, ovvero gli insegnanti come interpretano il comportamento di quel ragazzino. C'è la solita, scusi, la solita manfrina che è la famiglia che non li segue, sono i genitori che non li educano. Ok, allora se vogliamo utilizzare quella chiave di lettura siamo liberi di farlo, ma non aspettiamoci che in classe i comportamenti di questi ragazzini migliorino, rimarranno così, anzi aumenteranno perché il ragazzino cosa sente? Che in fondo anche l'insegnante lo sta espellendo, lo sta allontanando, gli sta dicendo tu non vai bene e nel momento in cui un ragazzino con problemi emotivi e relazionari che manifesta il comportamento aumenta il problema. Quindi la seconda domanda come insegnante che mi farei è ma tra colleghi, tra insegnanti che chiave di lettura diamo, perché se noi come insegnanti diamo una chiave di lettura condivisa e diamo un'idea di coerenza, questo ragazzino si sente molto più capito in un'ottica non divergente. Ok, quindi il secondo punto è una lettura condivisa. La terza lettura è che prima di tutto passa da noi adulti. Cioè se noi adulti vogliamo che questi ragazzini in classe mettono in atto dei comportamenti positivi, noi dobbiamo essere assolutamente sicuri e certi che dobbiamo dire guardate che prima di tutto i ragazzi guardano noi adulti, imparano dalle nostre azioni, non dalle nostre parole. Quindi la prima cosa che mi domando è ma io se voglio che quel ragazzino si comporti come voglio io, sono il modello che gli voglio trasmettere, prima di tutto io come adulto devo essere un modello convinto di quello che sto facendo, fermo nelle mie posizioni, coerente in quello che faccio, motivato, se io voglio motivare deve essere io motivato prima di tutto, io sono motivato a fare il mio lavoro di insegnante, di insegnante e lasciatemelo dire anche di educatore. Non si possono scendere queste due, io non posso essere solo un didatta, io sono un educatore perché per me tutto vale la relazione, io posso aiutare questi ragazzini in un problema di comportamento se passo dalla relazione. I questi ragazzini, io come insegnante, li devo sedurre e se prima di questo aspetto io non li seduco, io non riuscirò ad agganciarli. Ecco, un'ultima domanda, si registrano sempre più spesso episodi di violenza e di aggressione a scuola, sia tra l'unico e nei confronti dei docenti, quali sono i percorsi che ci consiglia per creare un ambiente più sereno? Prima di tutto questi ragazzini che hanno problemi comportamentali è perché non hanno ricevuto un adeguato, diciamo, adeguati principi educativi. Allora, la lettura che è del tipo della delega, cioè questi bambini devono essere seguiti dai servizi dei genitori, al ragazzino arriva, ah, anche questo mi manda fuori, mi espelle e quindi io mi arrabbio. E questo, l'insegnante, può diventare il bersaglio della frustrazione perché è quello facilmente attaccabile. Invece io quello che penso è che bisogna invertire questo ruolo. L'inversione del ruolo vuol dire io come insegnante sono tutte le mattine a scuola perché ho un ruolo educativo e in questo ruolo educativo io non devo agire in modo repressivo, cioè chi mette in atto dei comportamenti negativi io devo reprimerli, devo punirli. La repressione e la punizione non educa. Io prima di tutto come adulto devo partire dall'idea che devo educare, devo insegnare. Se io voglio che nel mio contesto lavorativo ci sia un clima di maggior accettazione, di maggior rispetto, io parto dall'idea del rispetto tra le persone. E quindi come insegnante, educatore, adulto, educante, mi devo domandare ma io che valori ho a livello educativo che io voglio trasmettere? Non è un percorso in cui metto in atto delle strategie così di gestione en passant. Prima entro come relazione. Che relazione ho col mio ragazzino problematico? Lui si fida di me. Lui ha una relazione con me significativa che mi vede come una persona che io un po' alla volta possa essere credibile. Per cui io mi devo domandare, io sono credibile agli occhi di questo ragazzino? Se passo la sua valutazione io gli ho fatto un enorme regalo, gli ho insegnato una prospettiva di vita che nella vita, nel mondo e nelle relazioni si possono rispettare gli altri e che rispettando gli altri si sta meglio piuttosto di mettere in atto delle azioni aggressivi per reagire alle proprie frustrazioni. Quindi secondo me non esistono delle strategie da applicare. Prima di tutto c'è la relazione. La relazione insegnante e alunno. Il focus è quello. Il nucleo è quello. Tutto il resto viene dopo. Ma se non c'è quello, tutto il resto non ha senso. Grazie a voi, sono Mazzocchi. Resto in salvo con noi. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie a voi.